Ci risiamo, uno dei simboli della lotta all'Andrangheta e della voglia di ricominciare nella legalità e contro le mafie sono stati l'obiettivo di ignoti per varie ruberie e distruzioni di strumenti del lavoro quotidiano nei campi. Stiamo parlando dei terreni che fanno parte della cooperativa della Valle del Marro, presi di mira con furti e atti vandalici. Persone non identificate hanno compiuto sottrazione e danneggiamenti per migliaia di euro in alcuni terreni confiscati all'Andrangheta nella piana di Gioietauro e gestiti appunto dalla cooperativa Valle del Marro. In un agrumeto di 8 ettari in contrada Soverato, ignoti dopo aver forzato un cancello hanno tranciato di netto i tubi dell'impianto di irrigazione portando via il motore e il quadro elettrico che servivano a pompare acqua da un pozzo di irrigazione. Stessa cosa è accaduta in un impianto di kiwi sempre in contrada Soverato, mentre il terzo danneggiamento scoperto ieri è stato portato a termine con il furto di un motore. Anche in questa circostanza è stato manomesso l'impianto di irrigazione. Per tali culture hanno spiegato i responsabili della cooperativa fondata nel 2004 da Dompino De Masi, referente di Libera nella piana di Gioietauro, soprattutto in questo periodo l'acqua è vitale. Massima attenzione delle procure di Reggio Calabria e di Palmi e dal prefetto Michele Di Bari.